Buongiorno e buona domenica a tutti, cari amici e cari amici, in questa domenica 16.01.2022, ho detto anche 16.01.2022, non mi preoccupate perché tra un pochino arriverà il piatto preparato da me di quest'oggi, non vi svelo qual è, ma poi dalla fotografia sui social si capirà. Parliamo di Australia Noven come si vede anche dall'immagine di videocopertina, edizione 2022, nota come sappiamo tutti per i fatti oramai di soppopera telenovelas di Djokovic, oramai escluso dal torneo al suo posto, Salvatore Caruso, l'agiluse, nostro connazionale, e mi sa che ne abbiamo 10, massimo 11 italiani in tabellone. Allora, Novak Djokovic, che se non mi sbaglio, almeno dalla fonda che sto attingendo dovrebbe essere corretta la cosa, al primo turno doveva affrontare Kekmanovic, che quindi dovrebbe affrontare Caruso. Gli altri italiani sono Lorenzo Sonego numero ATP, o non so se fosse del ranking, sì, del ranking, vabbè, del ranking ATP credo, Lorenzo Sonego contro Sam Carey, Stati Uniti, Fabio Fognini contro Talon Griekspor, olandese, Il numero 7, Matteo Berrettini contro Brandon Nakashima degli Stati Uniti, Andreas Seppi contro Kemil, Mike Zacc, Polacco, Lorenzo Musetti numero 32 contro Alex De Mino, australiano padrone di casa. Il numero 11, Yannick Sinner, che debutterà dal secondo turno, Stefano Travaglia numero 15 contro Robert Baudista Gurt spagnolo, Marco Cecchinato contro Filippo Kochreiber tedesco, Gianluca Maiger numero 5 contro Andre Rublev. Quindi, insomma, che dire, speriamo che questa Australia non open 2022 regali delle soddisfazioni a noi con i nazionali italiani. Per il resto, noi ci becchiamo sui soliti i miei canali social, YouTube, Facebook, Instagram. Ci vediamo alle prossime occasioni. Vi ricordo nuovamente il post con l'abietanza preparata da me quest'oggi, ecco perché oggi, diciamo, sono operativo con il computer più tardi. Va bene, buona domenica a tutti. Domenica ovviamente sportiva, non male qui a Francia anche un bel sole. Quindi, vi saluto. Alla prossima. Ciao.